Speriamo di aver fatto un buon lavoro, sono 105 articoli che danno una omogenea regola di pianificazione a tutto il territorio regionale. La logica è quella di consumare meno suolo, demo ricostruire, avere premialità se vengono approvati velocemente i nuovi piani regolatori secondo le nuove regole, efficientare modernamente i palazzi per rendere più sostenibile il carico antropico sui livelli di inquinamento, meno barriere architettoniche, più parcheggi e più spazi. Cioè disegniamo delle città a modello per l'Abruzzo del futuro che verrà. Erano 40 anni, come lei ha ricordato, quella legge urbanistica non veniva modificata. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, è probabile che torneremo nella fase applicativa su qualche dettaglio che magari in una pianificazione così importante ci può essere sfuggito, ma sicuramente l'Abruzzo ha imboccato la strada del futuro.